cari amici di mille un'avventura eccoci arrivati alla settima anteprima dell'anno quindi sette settimane del 2023 che proponiamo nuovi contenuti giorno dopo giorno nelle settimane che ci aspettano ogni giorno un video nuovo e come vedete finora siamo riusciti più o meno a rispettare questa queste scadenze anche perché a volte abbiamo trattato l'argomento in modo più o meno superficiale andiamo a vedere questa settimana che cosa abbiamo proposto abbiamo come sempre mostrato il nostro inform 7 nostro perché ci piace tanto lavorare con questo strumento di sviluppo questo editor di avventure testuali e anche se ogni tanto ci è un po' deluso per certe pieghe che ha preso lo sviluppo di questo editor a noi piace ovviamente sempre anche se ci pregiamo ogni tanto di criticarlo e cosa vedremo la prossima settimana lo scopriremo tra poco questa settimana abbiamo un po' parlato della situazione di inform 7 ogni volta c'è una nuova versione e le estensioni in italiano per creare avventure in italiano ogni tanto ne soffrono un po' andatevi a vedere il video se vi interessa sapere inform 7 che supporto per le avventure italiane rende disponibile poi siamo passati alla rubrica attesissima da tanti il nostro tributo agli iscritti che creano videogiochi siamo arrivati alla decima la nona puntata ma la prossima settimana ci sarà la decima dei videogiochi degli iscritti abbiamo visto alcuni interessanti videogiochi alcuni eccolo lì che arriva l'annuncio ma non possiamo farne a meno chissà che c'entra una merendina coi videogiochi degli iscritti oppure che cosa c'entra il raffreddore con i videogiochi degli iscritti non lo sappiamo ma noi saltiamo l'annuncio e dicevamo che abbiamo visto vari giochi creati da Filippo da Salvo e da Luca e vedremo la prossima settimana quali altri giochi troveremo poi siamo passati a trattare il web assembly questo metodo particolare per creare applicazioni molto veloci per i nostri browser applicati in contesti dove le performance sono decisamente importanti come per esempio in questo simulatore dove particelle si attirano si respingono in tanti modi diversi creando queste strutture molto particolari che sembrano quasi delle cellule degli organismi unicellulari che viaggiano all'interno di questo sottofondo di particelle e con il linguaggio C e il web assembly si riescono a fare cose di questo genere poi siamo passati al corso di assembly perciò qualcosa di molto moderno e qualcosa di molto antico 40 anni fa usavamo il commodore 64 per programmare o per giocare e qui abbiamo visto un particolare algoritmo che crea un effetto particolare numerico niente di grafico ma che ci ha permesso di andare ad approfondire ancora un po' di più l'assembly del commodore 64 subito dopo abbiamo affrontato un tutorial visto che purtroppo non siamo riusciti andare avanti con il nostro gioco che ha un terreno esagonale abbiamo mostrato dei bei tutorial che ci permettono di creare terreni esagonali come questi con biomi e varie strutture fiumi laghi e così via che risultano davvero interessanti molto particolari ovviamente non realistici ma che possono avere attinenza con la realtà perché ci troviamo un terreno con zone desertiche e zone paludose zone innevate con un senso seguendo una logica che poi quella con cui i biomi si presentano sulla superficie terrestre e infine abbiamo ripreso il motion capture mostrando questo deep motion che permette da un filmato in due dimensioni di ricreare un'animazione tridimensionale davvero stupefacente questa applicazione e abbiamo provato a partire da alcuni modelli così presi a caso con filmati presi a caso e il risultato devo dire che mi è sembrato decisamente buono per essere una cosa così improvvisata peccato che non sia proprio del tutto gratuito o meglio è gratuito però con dei limiti molto stringenti ma gli effetti sono accettabili anzi più che buoni ecco questo è stato il nostra nostra settimana la scorsa settimana scopriamo un po cosa potremo vedere la prossima e torneremo a parlare qui l'immagine c'entra poco ma era interessante un iscritto che si interessa di inform 7 quindi di avventure testuali ci ha chiesto in un commento sotto al video della settimana scorsa come realizzare l'effetto di nascondere qualcosa sotto a qualcos'altro come vedete in questa immagine qualcosa di nascosto sotto un tappeto sotto un tavolo sotto un letto avevamo tradotto tempo fa una estensione che realizzava questa che non è un effetto di base di inform 7 bisogna crearlo nel mondo simulato di inform 7 si può scrivere una cosa di questo genere si può programmare ma non è di base e perciò vediamo se riusciamo a portare quell'estensione sulla versione 10 che è l'ultima resa disponibile e quindi speriamo che il nostro iscritto sia soddisfatto per questa presentazione che faremo di questa estensione che avevo scritto per la 6l 38 ma che tradurremo e cercheremo di aggiustare per la versione 10 di inform 7 quella open source poi qui dovremmo essere se non sbaglio al 14 febbraio san valentino perciò mostreremo un gioco molto molto interessante che probabilmente se siete appassionati di commodore 64 avete appena visto che è uscito ci sono già stati dei video su youtube perciò san valentino il nostro amatissimo commodore 64 ce lo godremo con questo gioco che non è altro che zuma riprodotto in in 8 bit quindi un'impresa assolutamente incredibile e poi passeremo ancora sarà tutta una settimana dedicata alle ai gameplay praticamente perché andremo finalmente a giocare teresa mountainers su youtube ci sono altri gameplay su questa avventura grafica molto interessante che abbiamo già mostrato nei videogiochi degli iscritti qualche tempo fa ma questo è un gioco commerciale è pubblicato su steam e proveremo a giocare i primi la prima oretta però cercando un po di condensare perché in effetti ci sono anche gameplay molto più lunghi però mi pare siano quasi tutti in inglese almeno quelli che ho visto erano della versione inglese ma questo gioco è stato creato prima di tutto con la versione italiana e solo dopo tradotto il contrario di quello che avviene normalmente con i videogiochi perciò non perdetevi questo gameplay perché secondo me merita mi piace molto l'ambientazione anche a basso numero di poligoni ma che ricorda le avventure testuali storiche dei primi anni 90 e che quindi è interessante anche per quello poi andremo a fare un altro gameplay questa volta di un'avventura testuale quindi prima avventura grafica il giorno dopo avventura testuale proveremo un'avventura creata da uno degli iscritti che ha utilizzato questo sistema il pandor più ne abbiamo parlato tanti anni fa sul canale di questo sistema creato dagli e paper adventures è un sistema per creare avventure testuali che può funzionare e l'avventura può funzionare addirittura sui ebook reader perciò su strumenti che proprio computer non dovrebbero essere e invece queste avventure testuali riescono a funzionare anche lì oltre che in un normale browser un iscritto ci ha proposto una serie di sue avventure create con questo sistema vedremo di cosa si tratta e infine altro iscritto altri iscritti perché in questo caso parleremo dei videogiochi degli iscritti numero 10 per ora quello che vi posso anticipare che proveremo downtown che ha creato uno dei nostri iscritti e ci piace tanto che ci propongano i loro giochi perché ovviamente vogliamo scoprire cose nuove i soliti giochi tripla sono un po' ripetitivi dal punto di vista della creatività mentre i giochi indipendenti hanno di quelle idee che interessano sicuramente un po' a tutti e interessano di certo agli iscritti del nostro mio nostro canale e infine visto che parlavo di giochi tripla a ecco l'ultimo video di questa settimana sarà dedicato a call of duty vedremo warzone 2 ho giocato un po' alla versione dmz che a me piace perché ero alla ricerca di un gioco con un territorio da esplorare con varie diciamo missioni da compiere che bisognerebbe compiere in cooperativa con altri giocatori ma che io tanto per rendermi la vita difficile gioco da solo e in effetti era uscito o stavo uscendo da ubisoft qualcosa di simile avevo provato il la versione alfa beta poi l'hanno cancellato e mi ha dispiaciuto tantissimo perché il concetto mi piaceva e quindi visto che sta per uscire la stagione 2 di warzone 2 dmz io gioco solo a quello vedremo a che punto sono e ci saranno sicuramente dei momenti esilaranti perché vedere me che gioco a un first person shooter fps è sempre oggetto di ilarità per chi vede il video e quindi concluderemo la settimana non più con giochi di iscritti o indipendenti ma con questa cosa che comunque è gratuita e quindi ci sta benissimo ecco questa sarà la nostra settimana spero che seguirete il canale con la solita passione e interesse che ci siano tanti commenti sotto a questi video a me non resta quindi che augurarvi una buona settimana e ci si rivede nel prossimo video nella prossima diretta la prossima settimana ciao a tutti